Ho frequentato il corso triennale di illustrazione e animazione multimediale all'Istituto Europo di Design di Roma. Sono illustratrice e graphic designer e collaboro con case editrici, agenzie di comunicazione e magazine. Ho uno stile riconoscibile in cui mi rispecchio molto, ma cosa più importante, cerco sempre di essere fedele al mio immaginario e al mio modo di elaborare idee e concetti. Personalmente trovo tanto importante il primo impatto visivo che lo spettatore ha con l'immagine, quanto che venga fuori nell'immagine la personalità dell'illustratore e il suo modo di interpretare il concetto, di raccontare una storia. Mi piace collaborare con i miei colleghi illustratori, ma allo stesso tempo mi piace anche molto lavorare da sola. Nel primo caso è molto stimolante e trovo anche che ci sia tanto da imparare da una persona che come me lavora con le immagini, a che fare con le immagini, ma possibilmente ha un metodo e un approccio diverso dal mio. Nel secondo caso, lavorare da sola mi è molto utile nelle fasi in cui ho bisogno, ho voglia di trovare nuovi modi e nuovi approcci al mio lavoro. Mi ispiro all'illustrazione e alla grafica della prima metà del Novecento e in particolare nei miei lavori è molto evidente la mia passione per il design e per l'immaginario generale degli anni Cinquanta.